messaggio della preghiera 30 10 2022 messaggio divino è una luce per il santo cammino dove quel beato momento è molto vicino tutto ciò che viene da dio non farà parte del nostro io dio creatore è solamente amore l'amore costruisce l'orgoglio demolisce beato chi lo percepisce colui mai nel suo cuore lo tradisce questi sono i tempi mediovali e universali e come il sale della terra dove l'uomo deve finire di fare la guerra e se non si convertirà perde anche la terra dio creatore è solamente amore